Essendo poi di Palermo, ho avuto anche una carriera un po' particolare dove sono andato via dalla città e quasi a fine carriera ho avuto la fortuna e il sogno di poter coronare questo desiderio di indossare quella maglia. Quindi so cosa significa per la gente e quindi l'ho presa male come la cosa calcisticamente più brutta che ho vissuto nella mia vita però come vedi comunque la maglia è sempre nel cuore. Quindi credo che se Palermo doveva ripartire vedendo un po' la sua gestione così da lontano, il suo modo di fare a livello umano, credo che non c'era un uomo migliore per poter ripartire perché la cosa che piace di più di mille è questa vicinanza, questo rapporto con la gente, cosa che forse negli anni senza forse è mancata e quindi piace il suo modo di fare. Poi comunque parliamo di una società che è strutturata bene perché se parliamo come l'amministratore delegato Sagramola, uno che insomma ha fatto benissimo dove è stato anche negli anni più importanti a Palermo era lui l'amministratore delegato. Castagnini è uno come direttore sportivo che è una vita, anche lui che è in questo mondo, quindi diciamo che è ripartita con le persone giuste.